Amici e amiche salve a tutti come sempre ben ritrovati nel canale. Oggi andiamo a fare un video nel quale cerchiamo di capire e analizzare un pochino quelle che sono le tendenze del futuro della Parkside, marchio esplosivista dei supermercati Lidl, approfittando anche di alcune variazioni nel marketing e nelle tecniche di vendita che si stanno ultimamente notando in vari paesi europei. Queste valutazioni nascono anche dal mio ultimo acquisto per il quale ho già fatto un video relativo all'unboxing di questo prodotto, ovvero un trapano avvitatore a batteria, che ho comprato, udite udite, privo di batteria e cariche a batterie. C'era soltanto il corpo macchina in vendita, l'ho pagato se non ero 27,99€ e l'ho trovato conveniente, assolutamente. La cosa però che mi ha sorpreso in realtà sono stati i commenti a fondo di questo video che ho pubblicato, ovvero molti utenti non hanno recepito positivamente l'iniziativa di vendita di questo packaging di Parkside e hanno commentato negativamente rispetto a questa formula di vendita del solo corpo macchina. Molti di voi hanno scritto, proprio calcolando in soldoni, quanto mi va a costare alla fine l'avvitatore se devo spendere 27€ per questo. Poi c'è la batteria, poi il caricabatteria e alla fine mi costa 50-60€ ed è come se l'avessi pagato per intero. Voglio dire, non vedono il risparmio. In realtà il risparmio non c'è, o perlomeno non c'è in questi termini. I vostri commenti, mi spiace dirlo, derivano dal fatto che pretendete di acquistare un prodotto prevalentemente di negozi di ferramenta, di fai da te, in un supermercato. Questo è il no show della questione. Non potete pretendere di avere tutto e non pagare niente. Ora, Lidl sta cercando di evolversi per vari motivi, in modo da offrire anche tecniche di vendita diverse da quelle che sono quelle abituali, facendo questo tipo di offerte, che ovviamente non possono essere capite e recepite da tutti. Questo è dovuto, secondo me, al fatto che, per come la vedo io la cosa vivendo in Spagna, il pubblico di questa catena oramai europea dei supermercati è molto molto variegato. E mi spiace dirlo, mi spiace sottolinearlo, è anche un pubblico piuttosto basso per quanto riguarda la qualità. Sono infatti molti quelli che vanno a Lidl unicamente per risparmiare fino all'osso e non tanto per trovare un prodotto le cui caratteristiche possano essere migliori rispetto a un prodotto che trovano altrove. L'imperativo, quando si compra a Lidl, è risparmiare a tutti i costi. Lo vediamo sia nei prodotti alimentari, nei geni alimentari, sia nella frutta e verdura, quelli che sono gli insaccati e salumi, i congelati, tutto, tutto, tutto. Lidl chiaramente ha delle marche proprie, le distribuisce in esclusiva o comunque ha dei produttori che gli permettono di rinominare quello che va a offrire all'interno del proprio punto vendita e in questo eccezionalmente riesce ad offrire dei prezzi assurdi, assurdi al ribasso. Molti ad esempio degli utensili Parkside vengono condivisi con quella che è la linea commerciale di Ainel. Se ci fate caso e prendete un prodotto Parkside o un prodotto Ainel, non sempre ma spesso vi troverete lo stesso prodotto con una colorazione e un nome diverso. E lì finiscono le differenze perché poi se li andate ad aprire come faccio io vi renderete conto che la meccanica e l'elettronica all'interno è assolutamente identica e parlando di trapani, invitatori e cosine di questo tipo noterete che anche i mandrini praticamente tutta la meccanica è la stessa. Poi ovviamente Parkside acquista anche da Grizzly e altri per così dire produttori, più o meno produttori. Dico così perché prendendo un esempio il trapano avvitatore Parkside Performance viene descritto nel libretto di istruzioni come prodotto dalla, se non erro, Ovi, società tedesca che però in realtà non produce nulla. Molte. si va a costituire all'interno dei prodotti Lidl un sistema di scatole cinesi dove poi alla fine non si riesce a capire realmente nel momento in cui mi serve un componente perché mi si è rotto un mandrino, un qualsiasi componente, un qualsiasi pezzo di utensile non si capisce dove andarlo a prendere perché il produttore che è indicato in realtà non produce niente che fa da tramite quindi la legge glielo consente e noi restiamo così poi a dover comprare nel caso di rotture post garanzia l'intero utensile. Comunque tornando a noi vi dicevo la clientela del Lidl è così non ha la più pallida idea di quello che sta facendo, di quello che sta comprando e di quello che una qualsiasi persona avvezza all'utilizzo di utensileria necessita si compra ad impulso, si compra perché si vede un prezzo che si considera buono ma infatti molti hanno notato che il prezzo di questo trapano avvitatore non è buono per carità non lo metto in dubbio perché se andiamo a considerare poi la somma dei vari componenti corpo macchina, carica batteria e batteria arriviamo a un prezzo che è praticamente assolutamente in linea con quella che è la qualità, le caratteristiche del prodotto offerto non vi sbagliate in tal senso la convenienza in questi casi sta fondamentalmente in due aspetti innanzitutto che se si sceglie di seguire questa linea di utensili per farla propria per utilizzarla per i propri lavoretti di hobbistica o professionali poi insomma molto dipende dalla riuscita del singolo pezzo praticamente questo può essere perfetto e altri 10 no quindi è anche a fortuna quando si parla di Parkside e Lidl la convenienza sta nel fatto di poter utilizzare carica batterie e batterie che già si posseggono quindi con 2-3 batterie in casa diciamo che vi potete mantenere una mandria di utensili Parkside acquistati senza batterie in questo potendo logicamente scorporare il costo di batterie e carica batterie da ognuno di questi andrete a risparmiare ogni volta quelli che sono i quasi 20 euro della batteria e quei 6-7 euro del carica batterie in pratica l'uno e l'altro io li compro con 24,99 euro 25 euro che si vanno a risparmiare sull'acquisto di ogni singola macchina ed è cosa buona non vedetela in negativo ora il problema di chi commenta in tal senso è che realmente non è abituato a utilizzare questo tipo di macchine quindi quando vi trovate a comprare un utensilio di questo tipo è un evento eccezionale capisco è normale chi ad esempio vive in un appartamento voglio dire è fortemente limitato nei lavori del fai da te perché di certo non si comprerà mai una sega circolare da montarsi in una stanza al quinto piano di un condominio se no insomma alle riunioni condominali verrebbe letteralmente scuoiato però chi ha la possibilità di gestire lavori di vario tipo dalla carpenteria in legno a quella in ferro a tanti altri che comunque possono giovare dell'utilizzo di macchine simili o comunque riconducibili all'offerta Parkside beh lì c'è un'enorme convenienza dal punto di vista della scelta della marca questo è un discorso puramente soggettivo io ad esempio ritengo che Parkside sia forse una delle ultime come qualità inteso come affidabilità come bontà e sicurezza dei componenti che costituiscono gli utensili però voglio dire quando si parla di un avvitatore che deve fare comunque un lavoro semplice e allora lì insomma vale la pena anche comprare una macchina non eccelsa cosa che mi trova assolutamente in opinione contraria quando si tratta di andare a comprare un flex quando si tratta di comprare una sega circolare parliamo di utensili dove il pericolo di farsi veramente male è altissimo e allora lì sì voglio tutti quanti i sacrosanti criteri e sistemi di sicurezza previsti e che siano l'ultimo grido proprio per non gridare poi io perché non è un problema spendere quei 10, 20, 30 euro in più se mi posso risparmiare un dito mozzato o chissà cos'altro quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della marca non si discute cioè volete prendere Parkside prendete Parkside volete prendere Bosch, Milwaukee, DeWalt è lo stesso il fatto è che trovarsi finalmente all'interno di un supermercato di un discount, ecco di un discount del poco ed economico utensili che vengono offerti privi di batteria è una cosa assolutamente positiva proprio perché si abbatte il costo l'utente ha la possibilità di dire beh io per dei lavoretti saltuari o dei lavoretti sacrificati dove il trapano evitatore mi casca dalla scala una volta sì e una volta pure beh a sto punto non mi vado a comprare un Milwaukee da 300 e passa euro mi compro un Parkside da 20, 30 euro e risolvo, non sto a bestemmiare più di tanto ogni volta che mi si scassa per gravità una macchina e in questo senso diciamo che Parkside assolutamente viene incontro all'utente bisogna fare delle scelte intelligenti ponderate e lì c'è la convenienza ma sempre deve essere una convenienza intelligente la convenienza non è qualcosa che ti possono servire su un piatto e che va bene a tutti io ad esempio ho comprato questa Sega Gattuccio che è una macchina che uso veramente poco e per la quantità, la mole di lavoro che mi necessita mi va bene quello che ho speso è chiaro che se fosse una macchina che utilizzo 2-3 volte a settimana beh andrei sicuramente a spendere qualcosina di più anche 3 volte tanto su una marca che comunque mi garantisce un'affidabilità un rischio di inceppamento di errore sicuramente minore proprio perché trattandosi di uno strumento da taglio le cose possono anche rivelarsi pericolose ma in questo comunque Parkside mi è venuta incontro mi ha offerto questa macchina priva di batteria e l'ho comprata proprio in funzione del fatto che già io disponevo di carica batterie e batterie per altri precedenti acquisti in questo momento ve la dico così come sta la cosa io posseggo 3 macchine Parkside della linea X20 V Team per le quali utilizzo, vado compartendo 2 batterie e un carica batterie nel tempo me ne sono passate tante macchine di questo tipo tra le mani buone e cattive alcune trovandomene sul groppone a essere inutili le ho rivendute altre come vedete me ne sono tenute e devo dire che sono assolutamente soddisfatto di queste 3 al momento al momento mi tengo l'oggetto fantastico la sega a gattuccio e questo avvitatore factotum factotum si con limitazioni perché alla fine comunque non ha la percussione quindi è un factotum a metà e anche questo bisogna considerarlo ovviamente chi mi dice ma io 27,99 30 euro per questo e altri 25 per il caricabatterie e la batteria arrivo a 30,55 euro con 80 ti compri un Ainel a percussione quindi alla fine spendi tanto quanto però è chiaro che chi si ritrova già mezzo acquisto fatto alla fine ci aggiungi soltanto un'altra metà e vai ampliando le tue possibilità dal punto di vista nazionale si nota anche che le offerte di Parkside variano tantissimo io ripeto sto in Spagna e ultimamente nell'ultimo anno e mezzo ho visto scemare fortemente quelle che sono le offerte direttamente nel negozio quindi sempre più c'è carenza di prodotti da vedere da toccare con mano e portar via passandoli per cassa e infatti la tendenza in Spagna è quella di effettuare gli acquisti sull'idenonline.es questo perché evidentemente cosa che ho riscontrato anche di persona il pubblico spagnolo a livello qualitativo è anche peggiore rispetto a quello italiano i furti sono all'ordine del giorno lo smembramento di pezzi io non so come faccio la gente perché poco ci manca che li smontino direttamente nel negozio e ti lasciano un trapano senza mandrino vedo anche di queste cose gli smembramenti degli utensili sono all'ordine del giorno i resi suppongo che rispecchino la media della qualità degli utensili e quindi insomma Lidl Parkside in questo preferisce effettuare invii con corriere da una sede interna che hanno loro e fare puramente vendite online in questo modo si risparmiano tantissimo perché poi quelli che sono furti e manomissioni hanno un costo rilevante sulla quantità, sulla percentuale di prodotti esposti ora riducendo l'offerta o quantomeno riducendo la presenza di batterie e cariche a batterie già riescono ad avere direttamente sia online che nel punto vendita una quantità di vendita un numero di vendite superiore abbassano il prezzo la gente compra di più vendere a 27,99 è un discorso vendere a 55 euro già ti cascano le braccine possibilmente poi che tu debba comprare parallelamente o successivamente batterie e carica a batterie è un altro discorso sono cavoli tuoi anche perché ecco carica a batterie e batterie il difetto, il problema che si trova in questi punti di vendita è che non si trovano in tutti i periodi dell'anno ci saranno 3, 4, 5 uscite ma il caso vuole che quando ti si brucia una batteria o un caricabatterie di certo non vai a Lidl e la puoi prendere magari in paesi come Portogallo Spagna, Francia se non mi sbaglio e Germania il servizio di vendite online dell'Lidl funziona in Italia mi risulta ad oggi non essere attivo quindi in Italia sì magari avete la possibilità anche di lamentarvi un pochino però tornando al caso specifico l'acquisto del solo corpo macchina per quanto riguarda l'utensileria è rivolto prevalentemente a un tipo di pubblico che già possiede altri utensili della stessa linea è sufficiente anche solo uno cioè se io ho comprato tempo addietro l'oggetto fantastico questo qua a 9,99 euro e ci ho buttato di sotto una batteria e il caricabatterie beh da questo punto in poi qualsiasi utensile di solo corpo macchina può fare al caso mio ripeto dipende poi da quello che voi ci volete fare fino a quando parliamo di cose su questa fascia di prezzo e di questa tipologia diciamo che sono appetibili un pochino a tutti qua abbiamo semplicemente una sega e un trapano avvitatore poi il discorso cambia nel momento in cui ad esempio volete comprare una sega disco che funziona anche ad acqua magari Parkside ancora non l'ha fatto mi risulta far uscire il modello a batteria ma io così ci compro pure quella sono cose specialistiche ecco io riserverei le critiche per la vendita di prodotti prevalentemente specialistici che non sono assolutamente gestibili da una realtà commerciale come il Lidl piuttosto che prodotti di largo consumo come trapani e seghette più o meno semplici in questo che altro dire i prezzi degli utensili è ovvio che di paese in paese cambiano molte cose in primis l'IVA io ad esempio pago con un IVA al 21% in Italia siamo al 22% un'azienda privata fa il suo sporco lavoro e là dove può azzaccagnare maggiormente alza i prezzi questo è normale guardando ad esempio una cosa che mi è saltata all'occhio sul penultimo volantino che mi è passato per mano ci sono prodotti che all'inizio venivano proposti a prezzi carissimi voglio dire ci hanno provato poi dopo nemmeno un mese vengono scontati con un 33% il caso di questa lampada ad esempio che non aveva senso è rimasta sugli scaffali per tantissimo tempo in venduta cataste di lampade che alla fine insomma costavano 60 euro e ora le stanno proponendo a 39,99 penso che anche a questo prezzo non se ne comprerà nessuno perché siamo completamente fuori da quello che è il rapporto la relazione tra utilità e resa altri prodotti tipo questo trapano a colonna con il controllo di giri eccetera questo qua voleva scimmiottare il Bosch che è tutt'altra cosa ma che costa anche 170-180 euro l'avevano proposto in prima battuta attorno ai 75 euro ora col 34% di sconto sta 50 euro lo stesso perché comprarlo perché costa poco e quindi si possono sopportare le storture che potrebbe realizzare o perché magari lo andiamo a utilizzare per un lavoro così poco come dire preciso che va bene lo stesso valutate voi ovviamente ognuno deve essere libero di valutare e fare anche i propri errori poi lo vediamo su seghe circolari su piccole levigatrici questa qui ad esempio io ce l'ho ne sono finora contentissimo l'ho pagata mi pare attorno ai 30 euro il prezzo vecchio ora sta a 19 euro magari me la compro anzi non me la posso più comprare perché i termini di acquisto sono scaduti questa si acquistava nel negozio qua c'è anche una sega a nastro per metalli 79 euro offerta adesso quando era 99,99 questa la volevo provare all'epoca perché i dischi con i quali taglio i metalli sono piuttosto spessi il nastro è molto più sottile quindi c'è meno spreco di metallo ad ogni taglio che si fa un discorso che prevalentemente interessa gli addetti ai lavori ora risparmiare 20 euro su un prodotto del genere vale e non vale però qui già vediamo che il leader si vuole disfare di molti prodotti anche perché hanno avuto una riuscita magari deludente sono come in questo caso prodotti che hanno piuttosto antiquati cioè sono prodotti usciti diversi anni fa e magari già sono arrivati al loro ciclo di vita commerciale li vogliono far fuori possibilmente perché hanno già intrapreso dei contatti di acquisto e di vendita con altre realtà quindi fuori tutto e tra poco magari uscirà il modello performance che possono vendere al doppio al triplo di questo prezzo visto che già si è creata una clientela consistente di utenti che acquistano questo tipo di prodotti e qui ad esempio in questo volantino l'offerta è ridotta assolutamente all'osso relegata unicamente a prodotti da buttare fuori cosa che potrebbe essere anche con questi qua che abbiamo qui sul sul tavolo poi insomma lo vedremo in futuro nel volantino successivo ad esempio per me che sono in Spagna già leggo che tutti quelli che sono i prodotti di hobbistica che sono unicamente quelli relegati a questa paginetta quindi il vecchio compressore da 50 litri vedete questo qua che non è cambiato di prezzo che vi ho mostrato in un video precedente l'ho giudicato e bollato come insomma aveva qualche problema quello che avevo preso io faceva qualche brutto rumore metallico e ora è disponibile unicamente online non si può più comprare in un negozio fisico perché evidentemente molti li hanno restituiti molti avevano problemi e dover gestire un ingombro così grande per un supermercato non è cosa accettabile lì i repartisti devono andare a collocare che so confezioni di formaggio e prosciutto andare a ricollocare ogni volta un prodotto che pesa 50-60 kg per loro è un problema perché lo scatolone è quello che è perché il personale è quello che è non sono dotati all'interno di Transpallet quindi dal punto di vista propriamente gestionale una tipologia di prodotto di questo tipo è un problema così come erano il tornio particolari seghe da banco e altre qui poi abbiamo un comunissimo seghetto alternativo oppure questo 29,99 solo sul didone online nomes online significa solo online e come vedete qua è tutto quanto disponibile unicamente online qua c'è un altro trapano avvitatore a percussione ecco praticamente è il fratello maggiore di quello che ho comprato io 34,99 per averlo con la percussione il mio la percussione non l'ha e l'ho pagato 27,99 e poi ci sono altri prodotti da giardino questa è una una sega non so come la lancia sembra per una pistola d'acqua e poi iniziano altri prodotti di campeggio destinati all'uso prevalentemente estivo come vedete è tutto tutto ridotto all'osso questo per quanto riguarda la spagna portogallo la situazione nel punto vendita è un attimino più aperta si trovano più prodotti ma qui alla fine quello che interessa al supermercato Lidl è il complesso quindi giustamente i gestori di queste realtà commerciali guardano più il fatturato globale di quello che è il filone unico dell'utensileria o di chissà quale altro reparto se c'è qualche filone qualche qualche scusate qualche reparto che ha dei gap o rappresenta un problema nella vendita nei resi eccetera beh lì intervengono in maniera opportuna andando a limitare certe cose nella vendita di solo corpo macchina considerate che a darvi un prodotto che voi non potete nemmeno testare al momento quando arrivate a casa se non avete la batteria beh e questo è un vantaggio perché magari scadono i 30 giorni per effettuare il reso poi quando avrete l'opportunità di comprare la batteria magari non funziona e siete fregati rivolgiti alla garanzia alla cosa sono problemi perché le cose si protraggono per le lunghe e molti alla fine non avranno la soddisfazione che meritano per cambiare rendere o aggiustare un prodotto che ha qualche problema e di prodotti di utensiliera Lidl con problemi veramente se ne incontrano tanti quindi che fare allora le scelte vi ripeto vanno fatte in maniera intelligente e oculata che non è una brutta parola ma significa in maniera assolutamente appropriata ponderando quello che si ha e quello che si vuole conseguire quindi che ben vengano questi tipi di prodotti laddove l'utente abbia un minimo di esperienza e soprattutto l'intenzione di poterli capire perché a niente vale se niente vale se li comprate poi andando a considerare ah ma mi costa tanto quanto con il caricabatterie con la batteria il vantaggio non sta lì sta nel fatto che già possedete caricabatterie e batterie e seguirete possibilmente a comprare determinati utensili di questa marca perché li trovate confacenti per le vostre attività io non comprerò mai mai una saldatrice Parkside pensando di poterla utilizzare per i miei lavori io ho un'altra marca ve lo dico una Tailwind mi sono speso un pochino di soldi e per quello che sono le mie necessità ancora mi va bene ovviamente se facessi un lavoro professionale probabilmente o resterei su questa marca andando su una linea una fascia più professionale o andrei addirittura su altre marche che mi consentono maggiore affidabilità l'affidabilità e la sicurezza sul lavoro sono i cardini sui quali devono muoversi le vostre scelte non tanto quello che è la proiezione del risparmio della convenienza perché in questo quello che manca sul prezzo poi lo pagate sulla vostra pelle che sia chiaro ricordatevi sempre che state dentro un supermercato dove potete comprare uova pane congelato frutta e verdura acerba fazzolettini non lo so riso pasta combino ma poi per fortuna c'è anche la De Cecco quindi si va equilibrando la De Cecco ce l'hanno messa forzatamente ad esempio perché molti la pasta con vino non se la mangiavano in Italia gli dovevano dare una seconda scelta decente piuttosto che mangiare grani provenienti chissà da dove ci voleva anche una pasta nazionale per i clienti italiani in in Spagna la pasta De Cecco io al supermercato lì del non la trovo quindi anche lì in base al pubblico gli fanno un'offerta una 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 promozione di prodotti ad hoc e tutto fatto unicamente per catturare più gente vendere di più e avere più margini quindi pensate sempre con la vostra testa non fatevi ingannare da quelle che sono le vostre offerte se un prodotto del genere sta bene nel vostro laboratorio perché già voi per prima avete le caratteristiche per poterlo sfruttare e allora bene se io devo acquistare questo prodotto quando realmente non riesco poi ad avere la batteria il caricabatterie da compartire con altri utensili allora niente le batterie non mi vergogno di dire che io all'80% le uso con questo giocattolino perché alla fine ho una lamparina che uso ogni momento della notte del giorno qualche volta ma soprattutto ho due uscite usb per cui ci attacco tablet cellulare quant'altro ventilatore d'estate e sfrutto la batteria ma se dovessi usarlo puramente per una sega gattuccio lungi da me da farmi tutto questo set con questa marca andrei a scegliere altre marche con le quali pur spendendo di più per gli utensili o una maggior affidabilità praticamente in tutto dovete ponderare e non innamorarvi del vostro fornitore o della vostra marca d'accordo con questo è tutto spero in qualche modo di avere un pochino chiarito quelle che sono al momento anche le tendenze che dovete gestire voi e non dovete farvi gestire da quello che è l'offerta tanti sono i fornitori possibili i prodotti possibili ce n'è per tutti e potete realmente scegliere la macchina con corpo la macchina completa con una batteria due batterie valigetta ce n'è per tutti i gusti quindi inutile stare a lamentarsi e a commentare negativamente quello che va bene per me può andare male per voi e viceversa dovete valutare d'accordo i video si fanno anche per questo per dare l'opportunità alle persone di potersi rendere conto prima dell'acquisto di quelle che sono le potenzialità di un acquisto futuro non per semplicemente perdere tempo e farsi le pippe su un acquisto già fatto quello non serve a nessuno e anche controproducente si diventa ciechi d'accordo con questo è tutto io vi faccio un caloroso saluto vi abbraccio anche se le linee guida non lo prevedono e ci becchiamo al prossimo video ciao